Oggi 8 dicembre e siamo di nuovo qui con le Christmas promo del calendario dell'avvento di GameStop Andiamo a vedere cosa ci aspetta oggi Allora, controller DualShock per PS4 in vari colori a 49,98 Oggi sarà tutta giornata Sony ragazzi, tutta giornata Sony Quindi potete recuperare molte cose Gran Turismo 7, 39,98 per PS5 e per PS4 a 29,98 God of War Ragnarok per PS5 a 49,98 e per PS4 a 39,98 Marvel Spider-Man Miles Morales a 29,98 Per PS5 Spider-Man Ultimate Edition sempre di Miles Morales a 49,98 Per PS4 Miles Morales a 29,98 Spider-Man dei Poveri a 29,98 Vabbè, il primo che è uscito Il primo che è uscito, dai Allora, Ghost of Tsushima Director's Cut che è un giocone per PS5 a 39,98 E la stessa versione per PS4 a 29,98 Il PlayStation VR che costa soltanto 500 euro per oggi E poi varie cose colorate a svariati euro che secondo me sono inutili Ma se volete abbellire il vostro PC e tutte cose le troverete qui da GameStop Bello questo a 219, sicuro che me lo compro E niente, per oggi le offerte sono finite e ci vediamo domani Ciao 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 Ciao